Salve, prego, prego si accomodi. Sì, sì, questa poltrona qui, ok, le do il benvenuto nel primo centro ASMR in Italia. Io sono Chiara e oggi sono qui. Sì, per un'implizia del viso, però che cosa ha questo centro benessere di particolare, di speciale? Lei penso sappia cos'è l'SMR. Bene, allora praticamente oggi sente che sto parlando a bassa voce, poi oggi approfitterò di tutti i suoni possibili, e di tutti gli oggetti che userò per fare il più suoni possibile. Le farò anche un massaggio, cercherò di, oltre che farle, una pulizia del viso adatta e profonda. Cerco anche di farla rilassare il più possibile e farle provare questa sensazione di previdi. Allora, prima di tutto, mi serve sapere quali sono i suoi artisti preferiti. Sì? E che tipo di video le piacciono? Che tipo di video guardo più spesso? Ok. Sì? Molto bravo. Ok. Sì? Anche lui è molto bravo, anche lui è piccolino, ma è bravo, è bravo, sì. Ok. Quindi le piacciono questi stili un po'. Ok. I trigger preferite? Vite che guarda di solito più spesso i suoi video, insomma, che proprio sa che... Ok. Perfetto. Oltre a tutto ciò, lei adesso è seduta anche su una poltrona molto particolare. Allora, questa poltrona è massaggiante e riscaldante. Vi do questo. Sì, è un joystick. In realtà ha solo la forma del joystick. Questo è un telecomando. Allora... Con questo riscalda. E se vuole salire con la temperatura, basta fare così. E per scendere basta fare così. Salire. Scendere. Lo sente. Questo appunto scalda. Ok. Questo applica il massaggio alla schiena e alla parte bassa. Scusi, questo applica il massaggio alla schiena. Tutta la schiena. Questo nella parte alta. E questo solo nella parte bassa. Ok. Poi, puoi scegliere, se vuole, l'aroma. Deve solo selezionarli qui. E cambierà odore nella stanza, pian piano. Insomma, puoi scegliere l'aroma che preferisce. E poi... Qui. Se vuole, puoi scegliere la musica. Se vuole una musica rilassante, particolare. Ok. E gli altri tasti sono puramente per bellezza. Infatti, volendolo, può anche spegnere. E può semplicemente dedicarsi al toccare questi tasti quando vuole. Perché può essere un buon antistress. Quindi, vuole ripassare. Ok. Questo qui se lo ricorda? Bene. Questo. Ok. Questo sì. Esatto. Ok. Ecco. Perfetto. Allora, io questo lo do a lei. E poi lei deciderà come farsi fare il massaggio della poltrona. Se farselo fare. A che temperatura. E potrà anche giocarci mentre io le curo il viso. In questo modo potrà avere magari le piacce. Avere le mani impegnate. Avere dei bottoncini fra le mani. A me piace molto. Ok. Allora. Intanto, per prima cosa, devo vedere un po' com'è fatta la sua pelle. E ovviamente mi sono già lavata le mani silvettate e tutto. Ok. Mi posso avvicinare un attimo? Ok. Allora. Ok. Quindi le tira. Ok. Lei crema o usa con quale frequenza? Sì. Ok. E si trova bene o...? Eh, vedo un po', un po' qui sul naso. Ok. Direi che è una pelle mista comunque. Ok. Allora. Vedo che non ha niente sul viso. Assolutamente perfetto. Io però ho bisogno un pochino di detergerlo ovviamente, ok? E al posto di uno struccante io voglio usare sul suo viso un guanto. Questo guanto. Ah. Adesso le faccio sentire com'è morbido. Eh sì. Morbidissimo. Questo guanto è un guanto struccante che però aiuta anche a detergere. Quindi io non adoro usare niente sulla sua pelle, insomma. Nulla, nessun prodotto sulla sua pelle. Ma semplicemente questo guanto per detergerla. Ok. E poi cominciamo con il nostro trattamento. Visto che comunque lei non ha niente addosso. È solo per togliere un po' dello sporco di fuori della strada. Delle mani comunque capita. Ok. Allora adesso è la bagno. E la bagno con acqua che sentirà che è un pochino calda. Questo perché? Perché io le vado a detergere il viso ma ne voglio andare anche ad aprire i poli. Perché successivamente faremo una maschera purificante. Ok. Allora. Sì, questo guanto. Allora perché tutti i prodotti che andrò a utilizzare, quasi tutti i prodotti che andrò a utilizzare sul suo video saranno della Yves Rocher. Abbiamo fatto un ordine a poco tempo fa. E questo guanto ci è arrivato in omaggio. Vedete? C'è il simbolino. Ed è veramente interessante come prodotto, sì. Sì, magari, sì. Guardi se vuole a fine del trattamento le lascio giù qui scritto la capogruppo con cui abbiamo fatto l'ordine. Così mi ha detto di dire alle mie clienti che se ordinano da lei farà anche uno sconto al 15%. Sì, anche sui prodotti scontati. Quindi adesso magari vediamo come si trova con i prodotti, ok? Ok. Allora cominciamo a massaggiare il viso. È calda? No. Bene. Già. Sì. Non bollino. Ok. Perfetto. Allora, vado con i movimenti circolari. Sente come è morbida. È incredibile. Io l'ho provata, ovviamente, non questa che sto usando con lei, ecco. Però l'ho provata per struccarmi. Un'altra che ho. Sempre della Isra Shea. È fantastica. È molto comodo perché comunque non deve usare struccanti così. Ogni tanto magari è comodo anche da tenere, ossia, una bottiglietta d'acqua vicino al letto. Non vale distruccarsi. Non vale andare in panico. Così si tiene questa spugnetta lì. Un po' d'acqua e via che si toglie il trucco. E dopo questo può andare anche a metterlo... Basta lavarlo con acqua e sapone. Oppure lo può mettere anche in lavatregio, volendo. E... Molto bello. Poi è una scelta ecologica. Ok. Molto bene. Ecco qui. Ok. Sì, lo sto facendo in modo non invasivo. Potrei usare anche il vapore, però. Visto che la pelle mi sta nelle zone più grosse dopo andare veramente a fare il vapore. più danni che l'altro. Quindi... facciamo così. Molto bene. Le è piaciuto questo piccolo massaggio iniziale? Ok. Comincio... con il purificare il suo viso. Questa maschera è adatta appunto a pelli miste e grasse ed è opacizza e purifica intensamente la pelle. ingredenti a polvere di bycal proveniente da una filiera controllata e estratta attraverso un processo 100% naturale. Questa fulmone contiene più del 92% di ingredienti naturali senza colorante e oli minerali parabili. Allora... Vattà in Francia. Ora... Ok. Ecco qui. Partiamo dalla fronte. Ok. 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 Adesso... Ovviamente non faccio gli occhi. Vado sulle guance. Sui lato... Ok, sul naso non andrò ad usare questa crema opacizzante, ma andrò ad usare un patch sul mento, ok, benissimo. Allora, io userei il patch solo sul naso invece, qui sopra e sotto al mento, usiamo invece la maschera pulificante, benissimo. Allora, finisco di applicarla, ok, e lasciamo in posa per 5 minuti, poi vado a ritrattare un attimo il naso, ok, ma si sa che in pochissimo, proprio 5 minuti, vado a ritrattare il naso, benissimo. E vado a mettere un patch. Ok, ecco qui. Aspetti che lo faccio dire, bene, 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 minuti. Allora, io direi che i 5 minuti sono passati, si rilassate in questi minuti, ok? E andiamo a rimuovere la maschera, sempre con questo quanto, ok? Ok? Sì, l'ho già rimbagnato. Molto bene. Allora, ecco qui il mento. Come si sente la pelle? Bene, bene, bene. Certo. Dopo magari le faccio vedere che prodotti ho usato. Bene. Anche magari sul volantino possiamo sfoilarlo insieme. Ok. Benissimo. Ci siamo. Allora, adesso andiamo a rimuovere il patch. Ok. Sì, con calma. Sì, un pochino attira, è normale. E voilà. Guardi un po'. Ah, abbiamo tolto un bel po' di roba. Sì, sì, sì. Ma magari se la tocca dopo, che è la pelle. Adesso non voglio che la sporchi. Però le assicuro che già è molto meglio. Molto molto meglio. Allora, adesso vado a fare un bel gommage. Io uso questo bel prodottino. Sempre della Yves Rocher. Si può vegetarli. Sempre per pelle miste e grasse. E sfoglia e purifica perfettamente la pelle. No, no, no. Non prezzo, faccio l'altro assolutamente. Si fanno usato tutti i giorni. Due volte a settimana. Approfittiamo del bellissimo suono di questo prodottino. Questa formula contiene più del 97% di ingredienti di che c'è la tua madre. Lei ci attenta. Allora, questa crema esfoliante ha dei microgranuli. Non che andranno bene a sfogliare il suo viso, ok? È un gommage molto delicato perché abbiamo fatto anche la maschera proficante. Io non voglio esagerare, certo. Allora, andiamo a usare questi microgranuli sulla pelle. Ok? Allora, cominciamo dalla fronte. Ok? Allora, cominciamo dalla fronte. Ok? Mi piace avere il joystick in mano. Ti piace avere il joystick in mano? Ti piace avere il joystick in mano? Ti piace avere il joystick in mano? Eh sì, ma rilassa. Un po' l'antistress. Ok? Andiamo. Non so il naso. E massaggio. Questo non deve stare in posa. Semplicemente devo massaggiare. Faccio movimenti circolari. Cerco di premere un pochino. E questo serve appunto per rimuovere le cellule morde in sopravvice. Ok? Ok? E diciamo un po' far rinascere un pochino la pelle. Ok? Basta solo il sottofondo. Benissimo. Allora, adesso andiamo a pulire il viso. E questo volta userò appunto un prodottino molto 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 interessante. che è questo qui. Allora, questo cos'è? Questo è un 2 in 1 detergente più tonico alla camomilla. Molto delicato per tutti i tipi di pelle. La protegge e ammorbidisce la pelle. Questo è un testo che indolcezza e tonifica la pelle. Ok? E lo andremo ad applicare con del cotone. Questo andremo ad applicare sia per togliere quello, insomma, quel poco che ha fatto, quella poco di cremina che c'era nella... nel commage. E poi lo useremo anche come tonificante. Vado ad usare questi dischetti. Mi piace questo suono? questo apparently a vero. Ok? E poi è un testo che vi faccio dal cibo. Quindi, per ora è un testo che vi andiamo in un testo per doggone quello che c'era. Esatto. Ma ora. Ma ora. Ma ora. Ma ora. ecco qui molto bene c'è un po' di tablo l'odore è buonissimo molto delicato il bello è che questo flagone è riciclabile contenente plastica riciclata l'odore è molto delicato molto buono allora andiamo come se la sente la pelle? un pochino normale che dire insomma l'abbiamo purificata purificando un po' se è secca abbiamo bisogno di una bella bella maschera idratante ok benissimo ci siamo e senti che io ho tolto tutto il prodottino di prima inoltre ne ho anche tonificato la pelle quindi l'ho chiuso un po' i pori ok molto carino questo prodotto allora ultima cosa andiamo a fare appunto una maschera una maschera idratazione intensa linfa vegetale idroalistititiva sempre della Yves Rocher per pelli normali miste quindi va benissimo si mette per 5 minuti e non è adatto al contorno occhi e per il contorno occhi userò un idratante specifico quindi andrò a mettere un prodottino solo sotto il contorno occhi e questo sotto il resto del viso e andrò a mettere anche poi un burro a cacao per idratare anche le labbra che non vanno mai dimenticate ok abbondiamo certo qui abbiamo bisogno di idratazione molto bene si è qui sul mento non dimentichiamoci mai i lati del viso mai 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 la fronte bene 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 ok ne abbiamo messo un po' si 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 e no bisogna metterle un pochino perché deve stare in posa ok le prelevo un pochino non ne serve tanto è molto molto tenso e vado sotto gli occhi in questo modo si è che qui ne metto un po' ok ne metto un po' ne metto un po' ne metto un po' e comincio già un po' a farlo assorbire perché questo è molto corposa questo contorno occhi mettiamola così quindi bisogna anche un po' massaggiare prima di mettere in posa bene 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 allora uso le piace il cocco ok allora uso questo burra cacao alla noce di cocco sentirà che è veramente scorrivolissimo senta come è morbido ma poi che odore ha cioè che odore ha un profumo in una maniera incredibile di cocco però probabilmente anche io amo il cocco ci sono anche la fragola lampone macadame adesso comunque li faccio vedere magari molto bene oh mio che odore allora adesso le metto questo tessuto sul viso ok no è un tessuto semplicissimo non ha niente sopra quello che dovevo mettere la bianza messa ok allora ok molto bene adesso lo faccio aderire ok come se la sente è un po' vavotica per l'aria ovvio ok molto bene ok intanto che aspettiamo l'effetto di questa maschera idratante io pensavo che potesse piacerti un po' di page flipping visto ciò che mi hai detto sui tipi di video che guardi con un po' di tracing ti può piacere? bene allora rilassati concentrati sui suoni non ti preoccupare ok 0 3 0 3 ok magari ti faccio vedere anche su tre cose che secondo me sono molto carine così random ecco qui secondo me questo correttore illuminante è molto bello da una luminosità sotto gli occhi che ne avrei molto bisogno e qui abbiamo lo stick che invece è il correttore proprio per il colore i blush i pennelli i rossetti tu preferisci quelli matte o quelli più shimmer quelli più cremosi anche io quelli matte ci sono alcuni che non seccano tantissimo le labbra e sono molto buoni che non seccano e poi ad esempio qui ci sono dei prodottini molto interessanti ad esempio c'è una matita labbra in colore che quindi aiuta a non far spavare il rossetto e però è adatta a tutti i rossetti e poi c'è ad esempio il primer labbra bacizzante che in realtà prodotti non secondo me è molto carino che dice si fa tenere un effetto matte stendo il primer labbra bacizzante prima di applicare il rossetto preferito molto carino e poi c'è il pennello che guarda questo blu che bello ecco questo è quello che abbiamo usato noi maschera purificante se può fichettare formura arricchita con argilla assorbe estentaneamente l'accesso di sebo libero e puro e profondità donando la sensazione di pulizia e freschezza e qui abbiamo anche la maschera idratante texture fresca e molto idratante nude intensamente la pelle che ritrova tutta la sua freschezza e qui il tonico due in uno detergente tonico in un solo gesto deterge e tonifica la pelle delicatamente mi sa che fra poco dobbiamo possiamo togliere la maschera che ora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, sono passati 5 minuti di trattamento. Adesso io le vado a rimuovere la maschera, il tessuto, scusi. Ok, vedo che la maschera si assorbita molto bene. Sì, qualcosa comunque, adesso le faccio un po' un massaggio, qualcosa va rimosso. Ecco, le maschere sono così, però si assorbe veramente molto bene. Ok. Allora, questa maschera poi la buttiamo. Ok. Allora andiamo a fare un massaggio. Un massaggio rilassato. Ok, ora come ti senti la pelle? Bene. Andrea, se ti trattavo, ti senti anche un po' di loro, non dovresti? Benissimo. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Ok. Adesso andiamo un attimo ad abbonare, me lo sto per rimuovere un pochino l'eccesso ok? ok? allora il trattamento è finito io spero si sia rilassato al massimo spero che questa esperienza nel genere SMR le sia rilassata le sia piaciuta scusi puoi ritornare quando vuole anche per altri trattamenti certo allora io ne lascio il nome della rappresentante che mi ha dato tutti questi prodotti i frasi fantastici e i nomi dei prodotti e si le fa uno sconto del 15% si le farà il 15% anche se i prodotti scontati ok allora mi chiede la sua mail che le mando l'audio bbm ok gmail.com perfetto allora lei il foglio e io spero di vederla presto insomma perfetto lei ha ancora una splendida giornata se vuole può restare ancora un po' qui quanto vuole ok tanto è l'ultimo della giornata può restare qui anche un quarto d'ora a godersi un po' il massaggio benissimo arrivederci buona serata buon relax arrivederci allora grazie a tutti